la cazza la cazza portizza che nel San Gian d'Acre che nel fiso da cazzo che nel tazzo del Cavalliri i Templari e i Cavalli Teodologici in 1291 il Cavalliri kello zmin asir giov hospitati mille Frankish King da Cipro che nel tazzo da cazzo sa kem fil 1306 ħadu l'iniziativa illi jattakaw l-rodi illi che ne tazzo il-Bizantini uffi il-Tex in Thessisics ovviament gara un'Ikadim Cipro che non l'imma sol rodi l'inia mappa del 1490 che non c'è non c'è non c'è l'inia non c'è l'inia 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 l-Ulm che lì i forti niti mattini guerra tra cipro la nuova il porto il guerra e tene guerra da città prodi dal titolo di punti il cuore e me che dita rossuare il porto il il birr e il zair. Il zair è un mandrakyo, il che ha fatto un mandrakyo, il che ha fatto un mandrakyo che ha fatto un mandrakyo, il che ha fatto un mandrakyo, l'individuo e il piaggio dal cavalieri. Il bello che ha fatto quante altre persone sono lite parte del greek ortodossi. Dicturi, la monta da roti o sinne giumaldi, giri, txutin il vocaboli ovviamente, they found their way into the local language. U metta ridu, Ibnul Belt, designi għaw bitxal bejn il lum enna għatis fel, għara l-Nisia ta Santugustin, għagħu l-Madraq sa' l-U, però l-Kelma kinetikonjati xemnek jinnusi għangun, enk lei jisupport zai jmnek, jgħu għar saman, il-li project li għagmasi. Aċħbasnic daċħertu punt, unbatta għadduna, unbatta għluz, s-quotajs otsar, għiet mil l-Islam stalbedd. Anchi il il... 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 il dillu... Piazza il gavino gulia il mecca, gua collo riclaid, il bar... il bar, di padioglieglia, il c'erto mappe fantiki il-designo għalla mandraffium. So, il quale lotto introduce over there. effettivamente it is a small harbor ma viena rauta inolietta, nekwa isa u xerdu daquil principale di emma abbet viena danu e rintratta uietniliswadi di emma il palassa al-Gramasli al-Grodi hafna merestauri djewa sa' l'Italjani ili kino repulg zira di emma il se svaldi 1920 ma dat erli mbattin fuwa mattin di gara di nio ovviamente u hafna merestauri sa' riddaddad bix metamussolini dimu rintu suri gzira u bie cermen isib il post li di kipne bazz na bazz nisbega they upgraded completely the interior of the of the palace pero amma hafna interventi ta' sa'ra gdira i un'exercise, semplicemente, biex jannullo di Palaz Grand News, biex spettacolari, biex mbaadluar koloġ mussolina asfaltu a magrinik. Ovviamente, l-lum għallu koloġ kifinu. Dan, u l'interni, l-lipħal biexra tal-palaz tal-Grammasri, l-lum mużewi di piriforumek, jemħabna ċtistaw tarawu, mux l-palaz biex, jemħan ki l-sbtar tal-ordni danu ma l-arkati, l-lirajna titilu, doq l-arkati, dati ptarkitettura u kolla n-arrawa z-sagra infermerija danu, xe il-post, ime med crucifortum, għirx tal-arkata. Għank il-birgu, l-birgħal sal-i kusture, muminge, il-bitħan. L-istess arqtettura bottika, l-nista għuun il-ċuħu l-arkitetti, akkumpanjjaw l-kavalliri uċġaw maġta, u baġi i t-litzaw l-istess il sistema da architettura. D'annu all'estai, il sacro infermierie da Roche, lì metamortin fin il museo archeologico. Ma c'è qua, c'è ecco, c'è lì morti, lì m'è lìa, 1999. Meta t'ilfu Rodi, anzi, abella t'ilfu Rodi, inèm c'epter general. C'epter general fuwa, metà il Cavallieri a un'convenju general. Uwi partecipaw il Grand Crossing Scholar, plus il Conventual Bailips u il Provision Bailips. Mela, il Conventual Bailips j'uppiliri k'inu il-heads tal lingwi individuali, fil kol lingwa, la Franza, Provence, Governe, eccetera, eccetera, il-kattakum k'inu il-pillieri, j'uppilieri, da' lì k'inu residenti pil headquarters principali, a mekedi nek' jellupo g'u Rodi, k'inu edu l'convenċun, aċk' j'pil convent. Però, k'u l'regġun k'u l'Oroba il-land-provenċun, il-gran praverita Franza k'inu Parili, per esempio, un fu k'u l'gran priorat k'inu l'għodlu c'erħun ta' kommenti, l'Cilipin West States. U k'inu l'pernati mill-kappju ta' Franza, perro er residenti barra. Nella l'ora k'inem, ut-minja għal kul lingwa, ut-minja mal, mħal ta' Rodi, ut-minjo għra k'il paiz individuali għal-Oroba. Perro, il-dissistema illi għamlu dattik ta' divizjoni, izzar, fil 1329, il-ċattar ġennel. Ta' 1329, m'un peljie, il-ċattar ġennel ma' k'inċ it was not held in Rhodes, jim bambun peljie, ma' naċħalli ma' rarduli. U dakħi zmin k'inem several lingwi, u m'uštminja. l-ħappal pat', li Spanisholi gl-Aragonesi o castigliani ki m'u vitten ala il-ħall Force o in proprio il 1329 ne decide il lingua spagnola a San Pesnino o pezzaro d'Ninio c'è l'Aragona va a trecchino il all'is in order o signorti che non poten zammeu l'istess signorti throughout their existence Provence o Berni-France un batt per la proposta Italia un batt un batti, un text post aragona l'Inghilterra Germania and the eighth lang was what was brought out as Castile and Portugal that was the eighth branch of the order c'è l'Aragona chapter 10 l'Aragona anche fismin in Tadiol-Rasalem ma chi non c'è la divisione, fino a quella di tiri quella in alpima sul città. Ma la fin fortineti, semmeno le che nemmo il guerra, lì c'è l'effetto il tavalleri, però il mantra che ho già detto, il port principale, che nemmeno il fortizzato. L'Egip li stessi semta gzira, tarodi. Ma la di crep qua, i cavalliri, però, e ti nuwata tel fuwa. U fleu waltai andare tal 1523, tel ullidem. Esattament, al mamlu l'inglesi, l'fitter di fest da marzu, għal ilom il-kontratt, u fleu walt-April, għaljum il port il-Mil. Min ammek marru, fil gzira ta' kandja, li akrit, kandja u għal, l'isem Venezian, tal l'opal. Għal għal d'an unnek, għal dzit-tazni. Un bax r-għal jok salpaw, u, dine għaveduta moderna, tal tal peraklion, Ija il-Belt Capitale Ta Creta Ika il-Furtizza gnega il-Veneziani Illa ixkene tahtil-Veneziani Illa gizmin Unbat gnega marrum Messina Messina Waqfumek Alt-Tazmin Tinseo xelli ma kellomx Destinazjoni Gareb del-Fatati Speġi Kino dini morru Tittqtid Ierz ulejne Probabilment L-Italia Jo-Franza Uperoo xabnamenno Minbaċu Mincavalliri Deo intirxu Bille Pais individuali tahtun Iqqqqn Iqqqn 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 il proprietà tappo ma sitau xie disponua gara mevton kienet mur alla proprietà all'ordine setau jittisponu bis min 1-5th of their estate bejim bil permess u ben i plaħtut al-grammascu ma sitau xie il next-off kien tappo ma sitau xie lato xie ammenu kien ma ikun xie marranjament iniziali e li irtigi esaminati nel consulta lor però i crociati che non ho avuto una cosa i crociati i crociati i crociati i crociati i cavalieri che non c'hanno gioco anche i templari ma che non c'hanno se tavi partecipato il crociati e ma it was a minor force within a larger force a xie il crociati che non c'hanno gioco il nazionale tajizz tanzara kolla spagnoli italiani għizi min kullum kien pan c'hanno partecipavo il kavallieri lepanto lepanto kienet għi i crociati i crociati l'ottomani lo għran kolla partecipav spagnoli italiani u anki min l-centri tal-Europa għermania u għal u għalus 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 20 tal-Ordni imma kienu il minor force udin il larger force għamma għara t'la sedju l-bir t'la sedju l-bir għana d-eem najdu l-ottomani njua minnu pero kienem il-partecipazioni tal-forzi tal-kursara għejm l-magreb għal-dragut u barbarossa u xna fin edha għal they joined league u di ottoman army tu lejsiċ tu t-multi zajnend u li staj sħgħara finis minnit għal njua u Villa Franca i Villa Franca un vat savo post-temporaneo i ctartitul Nizza. Ma għan se ux il-Savoj, da kizmin, Italia, il-Nette Stemdi, salto l-nata Nizza, ma finch zona franquida, batti il-quab traktat il-territorio il-Savoj italiani, l-nata kizmin, kine taht il-hatma tal-Haus u-Savoj. Kine jem sadattant traktativim na għata al-Papa, bix jara kif jamell, jie kunu istaw niss-tedi għog, xin kieno, l-ħhtam, metti n-eki n-eki qehtta la-Ment dis-integrawa, ma kis long, xin kai stad, għal-razo, għal għal l-Ungabell, u l-grammastu t-rakkizmin għal-mattrafu kien l-īla d-hamm u-Papa Clement daħal bix jara kif jamell agli cavalliri, viaggio riporto, sedi permanenti, o che è stato un po' di questa interventa del re da Spagna. Lì è sgrazia e decida che lì viene dal territorio da Malta, che è stato un po' di questa tribuna. E' una considerazione che il cavalliri accettavano, che non c'è alternativa ora, che non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo. Inoltre, si c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo. Ma non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo. che non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo. Però, non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo. ci sono già qui in questo, ma non c'è un po' di questo, ma non c'è un po' di questo, ma non c'è uno. C'è un po' di questo, che è un po' di questo. convincenti in rapport negativi ma eventualmente i fatti il domenica valli ma fottam xazla u istiti di awliacentrawi il rhodi 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 商 il rhodi il rhodi il rhodi il templari il rhodi il rhodi uqam il rhodi il rhodi l-immaġinaw li kienu gheri rabez le, kienu ikummerċaw u gol, u saru on jahafna, specialment il-Templari, u kienet wadam il-raġunni l-għalix Filippo Lebelle, il-retta Franza, kien tefajne huo, maġ, he was vet ridin il-dejni, u ratti fa' għamel li kallunja il-Templari, biex konista, juħuġi koġuġuġa u jahpro Kubia Lillu, nipsu, nipsu, nipsu tatsa templari, div- ud 몰라' għalġi d-1312. D-1312 gi sopprēs lojni ta' templari, u teachers jaq di Molaj lahġri għrammasu, kharqul sacgu. La decisione sarebbe Viterbo 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 La decisione sarebbe Viterbo La decisione sarebbe Viterbo La decisione sarebbe Viterbo 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 Viterbo